In attesa di Yannick Sinner che oggi sfiderà l'australiano O'Connell, Lorenzo Musetti ritrova il sorriso dopo il successo contro Brian Shelton che vale gli ottavi a Miami e dove sfiderà l'ostico Carlos Alcaraz. È la vittoria più bella degli ultimi mesi sul campo, Alcaraz è un amico e una grande persona. Lui e Yannick sono le sfide più difficili in questo momento ma sono contento di poterli affrontare per vedere se riesco a fare ancora uno scalino in più ha detto Musetti dopo il match. Carrarino regala spettacolo nel match in cui tutti puntavano su Boom Boom Shelton ma rinfrancato dalla vittoria contro il russo Safiullin ha liquidato l'americano in 2-7 dopo una prova di grande maturità. Musetti torna per l'ottava volta tra i migliori 16 di un Master 1000. Ora lo attende Alcaraz in ottima forma non prima delle 20 e 30. Il numero 2 del mondo fresco vincitore di Indian Wales dopo aver battuto anche Sinner sembra inarrestabile ma cresce la curiosità di vedere come imposterà la sfida per dare del filo da torcere allo spagnolo.